Siamo appena rientrati da Sarivelli, una gara di 7 giorni in Algeria e devo dire che è stata un'esperienza bellissima prima di tutto perché l'ho condivisa con mio marito e poi perché per la prima volta ho partecipato come concorrente, come navigatrice. È stato molto bello e sicuramente di molto aiuto esordire al fianco di Paolo che grazie alla sua esperienza mi ha trasmesso i fondamentali della navigazione e soprattutto tantissimo entusiasmo. Devo ammettere che prima di partire la preoccupazione principale è che Paolo non si fidasse di me e che mi chiedesse ogni due minuti di vedere il roadbook. Invece devo dire che fin dal primo giorno, nonostante qualche errorino di navigazione, mi ha voluto dare fiducia e questo mi ha permesso di navigare con molta serenità. Un altro dubbio che avevo era come descrivere le note, sempre per il fatto che Paolo è abituato a navigare guardandole. Ma anche qui, fino al primo giorno, tra risate e presi in giro di Paolo e degli amici che erano con noi e sempre dopo un briefing serale in tenda, devo dire che ogni giorno è migliorato il nostro feeling comunicativo. Ma la cosa più importante, oltre ad aver vinto per la nostra prima gara insieme, è che siamo rientrati insieme dall'Algeria, perciò non mi ha abbandonato nel deserto algerino come temevo, perciò detto questo ci sono tutti i presupposti per un'altra grande avventura che prenderà il via il 30 dicembre a Monte Carlo per l'Africa e Corese 2019. Un saluto a tutti gli amici di Road Race e mi raccomando seguiteci. Ciao! Ciao!